Sì, sta crescendo, siamo ripartiti quest'anno dopo sette anni di questo periodo un po' buio che c'è stato nel nostro paese, mettiamola così, se riuscite a lavorare bene, a fare otto gare addirittura qua siamo molto contenti, siamo riusciti ad arrivare adesso a 300 soci il nostro impegno per il prossimo anno sarà sicuramente fare delle migliorie alla struttura coinvolgere sempre di più ragazzi e magari un domani affigliarci proprio come Federazione Italiana Bocce e fare una società di soli giovani ragazzi La serata ha visto la partecipazione di due campioni dello sport, Daniele Grosso, campione mondiale di bocce e Giorgia Priavone, argento al mondiale di Duathlon, che hanno dialogato con i bambini presenti Si è cominciato a giocare alle bocce dall'età di 4-5 anni, grazie ai nonni, ai familiari che mi seguivano i miei avevano una bocciofila e da lì ho cominciato tutta la mia esperienza boccistica Questo titolo di campionato del mondo è 95, a novembre andiamo in Turchia a fare un nuovo campionato del mondo e speriamo che vada bene Il concorso sport delle bocce, come è recepito dai più giovani? È recepito come gioco da anziani purtroppo, ma non è così Noi ad esempio, io e Luigi Grattapaglia, che è un altro giocatore molto forte di bocce abbiamo una squadra a Val Fenera con 25 ragazzini dall'età di 7 anni a 15 quindi ci sono molti giovani che giocano e bisogna cercare di far capire che il mondo delle bocce non è solo da anziani ma anche per giovani Io ho conquistato la medaglia d'argento al mondiale di due a tre una staffetta e un quarto posto all'individuale quindi dai, due buonissimi risultati e ora tra una settimana ho gli europei, quindi spero solo di farli meglio Per te cos'è più semplice dei tre sport? Per me è la corsa, la mia frazione migliore è la corsa, anche se la bici è la mia preferita per quanto riguarda gli allenamenti perché è sempre bello stare all'aperto e pedalare sempre in posti nuovi Questo sport fa presa sui più giovani? Sì dai, è uno sport che sta crescendo molto, è uno sport nuovo di sicuro non è uno sport facile perché c'è il nuoto, la bici e la corsa ma è uno sport completo quindi per tutti Nel pomeriggio i bimbi si sono cimentati in prove di running, ciclismo e bocce, il cosiddetto triathlon sbagliato una festa che voleva celebrare anche l'inizio del nuovo anno scolastico non a caso la giornata aveva come titolo un inizio da campioni non a caso la giornata aveva come titolo un inizio da campioni